Assessore Petrini, lei non è a casa? No, io sono fuori per manutentare Roseto. Raccomando ai cittadini rosetani di manutentare la salute. A Roseto ci penso io. Attenzione, rimanete a casa per la vostra salute. Al resto ci penso io. Occhio perché giro a 360 gradi sul territorio. Quindi rispettate il decreto legge. È una cosa per tutti. Che può fare solamente bene alla nostra città. Manuteniamoci, manuteniamoci tutti insieme.